Benvenuto o bentornati nel canale. Il titolo non è assolutamente uno scherzo ma la pura verità. In questo canale porto sempre informazioni su aggiornamenti della app DJI Fly e oggi vi metto in guardia proprio con la DJI Fly perché non mettiate a rischio cosa? Lui, il vostro drone. Ma prima di iniziare, come mi consueto, vi chiedo un piccolo aiuto, un piccolo sforzo per aiutare il canale del Big con un like a questo video e se volete un'iscrizione sarebbe davvero fantastica, ci conto davvero e vi aspetto ovviamente qua nel canale. Si inizia! Prima di raccontarvi tutto, come mi piace fare spesso, vi dico che da stamani su Amazon c'è nuovamente lui a sconto di circa 100 euro nella versione combo, dunque un'altra ottima occasione per prendere quello che è il drone più riuscito di DJI a un prezzo incredibile. Vi lascio il link sotto in descrizione se vi interessa. Ma ora a noi. Quando pubblico video sulla DJI Fly mi arrivano sempre piccoli e grandi problemetti, delle volte anche nessuno e quando arriva qualche nuovo drone, anche alcune novità davvero interessanti da parte di DJI che riguardano proprio il volo e il miglioramento dell'esperienza appunto con un drone della DJI. Esempio nelle ultime migliorie con l'uscita del Mavic 3 Classic con la DJI Fly che cambia interfaccia e va a sistemare alcune cose delle impostazioni sulle impostazioni appunto degli EXP di regolazione del volo. Vi lascio proprio un video fatto successivamente al mio racconto delle novità che trovate comunque a giro in questo video nelle schede e in questo, ecco, ve lo linko qua sopra, ve lo metto qua, proprio in questo trovate le impostazioni per creare video fluidi da applicare ai vostri droni DJI con l'ultima versione della DJI Fly. Spero che il mio audio arrivi bene, tira un vento, guardate, incredibile qua in Toscana oggi, volare con loro diventa un problema anche se lui regge bene. Comunque andiamo avanti, nei video dove testo sempre gli aggiornamenti della app molti mi scrivono nei commenti sotto, succede sempre, io mi trovo bene con la versione 1.5, 1.2, 3, 6 io con la 6.0 e quant'altro, io sono sempre fermo da due anni alla stessa versione perché non mi dà problemi e fino a qui tutto va benissimo, ma, ma, anche l'azienda cinese però che fa, consiglia sempre di aggiornare all'ultimo firmware e all'ultima app di volo, all'ultima versione disponibile, lo fa ogni volta. Beh, e adesso però cambia tutto, cambia veramente tutto, la scelta di non aggiornare all'ultima versione mette seriamente a rischio la sicurezza del nostro drone e lo afferma direttamente DJI che sta pianificando di aggiornare i servizi delle mappe per molte delle sue app di volo, tra cui proprio la DJI Fly. E che cosa accade se non si usa l'ultima versione proprio della app? Ora ve lo spiego. DJI ha espressamente detto che probabilmente non si visualizzeranno più in modo corretto le mappe, ma non è questo poi alla fine il problema reale e principale, proprio la visualizzazione in sé per sé, perché secondo DJI le versioni precedenti delle loro app per il volo con i droni DJI Fly compresa potrebbero non visualizzare appunto delle informazioni accurate sulla posizione del drone e dell'area intorno, perché questo sarà causato dall'incompatibilità dell'imminente revisione dei servizi di mappatura. E di conseguenza questo, e ora ve lo spiego, porterà dei problemi non da poco per chi non aggiorna. E di fatto loro se ne sono usciti proprio con un comunicato ufficiale esortando gli operatori ad aggiornare le proprie app e gli smart controller prima del 25 novembre 2022. Comunicato che ho qui stampato e che vi leggo per farvi capire quello che dicano e che è la situazione. DJI, scrivono, continua sempre a ripetere e rilasciare funzioni di prodotti sempre più avanzate, per fornire una migliore esperienza di servizio. Aggiorneremo presto i servizi delle mappe e per alcune applicazioni. Si consiglia, continuano, di aggiornare sia la app che il telecomando prima del 25 novembre 2022, per continuare a beneficiare dei regolari aggiornamenti e dei miglioramenti delle prestazioni dei droni. Continuare, vanno avanti, a utilizzare e le vecchie versioni delle app DJI per il volo avrà un impatto negativo sulla visualizzazione della mappa. Ci scusiamo, finiscono, per gli eventuali disagi che potresti riscontrare. Cosa significa questo? Significa che in caso di un problema al nostro drone, una caduta accidentale, un landing, magari non previsto, insomma un inconveniente che ci costringa a mettere in moto di fatto la procedura per ritrovare il nostro drone, che non ha fatto ritorno a noi, e se volete guardate, vi lascio qua, anche qua nelle schede, un video fatto poco fa, qualche settimana fa, dove vi spiego come fare, se vi succede una cosa del genere, spero che non vi succeda, ma così sapete come comportarvi. E dunque, cosa accade con questa novità? Il problema diventa importante perché rischiamo di non trovare più il nostro drone in caso di un flyway o di un atterraggio, di un landing improvviso. Dunque, capisco lo scoramento di chi si trova bene o con quella o con l'altra versione, magari più vecchia della DJI Fly, ma adesso il bivio è abbastanza segnato. Non è una scelta di trovarsi bene o male, è una scelta di mettere eventualmente a rischio il nostro drone. Dunque, che dire, fate voi, fate come credete meglio, io vi ho voluto informare, vi ho voluto raccontare tutto perché credo sia importante, a mio modesto parere, se non siete ancora passati alla 1.6.8, fatelo, aggiornate e passate a questa versione che è quella che DJI garantisce perfettamente con il funzionamento delle app e di conseguenza anche con l'eventuale ritrovamento di un drone a fatto un landing. Spero che questo video sia stato utile e che vi possa aiutare a mettere un po' al sicuro il vostro drone. Ciao dai Big, ci si vede presto, mi raccomando Instagram, TikTok, Facebook, ma un'ultima e piccola nota, seguitemi soprattutto su Telegram, vi lascio il link sotto in descrizione perché nei prossimi giorni arriverà un regalo per chi è iscritto da usare con tutti i droni della serie DJI. Dunque, che dire, seguimi sul mio canale Telegram perché vedrai che sarà un regalino utile da applicare a tutti e per tutti, ovviamente, gli iscritti con i droni DJI. Ciao dalla Toscana, un abbraccio, una giornata bellissima, ma con tanto vento. Ciao! 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 Grazie a tutti